we che cactus fai da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci xyuderone daie can you hear me dreaming of you we bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo velocissimo video io sono xyuderone e ragazzi patch notes 9.01 quella che poco fa abbiamo tutti potuto scaricare per aggiornare il nostro fortnite alle mie spalle la novità principale già l'avete vista nel video di questa mattina il nuovo fucile d'assalto tattico descrizione viva la tattica questo fucile d'assalto robusto è preciso è l'opzione ideale a distanza ravvicinata quindi ragazzi contro ogni pronostico si usa molto molto vicino ovviamente lo abbiamo nell'utaterra nei drop nei chest sappiamo che è un'arma automatica un caricatore da 30 colpi con danni divisi in base alla rarità 22 23 24 un moltiplicatore di 1 e 75 al colpo alla testa ragazzi abbiamo una rosa di proiettili che viene esplosa in maniera molto compatta per il combattimento ravvicinato ma molto invece inutile molto inutile non si dice per un combattimento a lunga distanza di nuovo nerf alla girosfera salute ridotta ulteriormente da 200 a 150 modifiche anche alla pistola tamburo ragazzi il danno di base è stato ridotto da 26 barra 27 in base alle due rarità a 22 23 quindi ci sta ci sta la thompson comincia ad essere bilanciata e arrivederci alla mitraglietta compatta ragazzi hanno tolto per dare più spazio alla thompson modifiche nel gioco per l'onda d'urto ragazzi da adesso le onde d'urto non bloccano più la costruzione i giocatori in volo nell'onda d'urto distruggeranno gli oggetti creati dai giocatori con cui entrano in contatto e tra l'altro disattivate le onde d'urto dopo la fase 5 della tempesta migliorato anche il modulo di streaming interno di fortnite per chi di voi magari lo utilizza su twitch adesso è un po' più facile performa bene anche con computer un po' più datati qualche modifica anche nella modalità creativa arriva ragazzi il l'inclinato in rovina il modulo inclinato in rovina per poter migliorare i vostri prefabbricati le vostre costruzioni modifiche ovviamente anche nel compartimento armi sono stato inserito il fucile d'assalto tattico e insieme al prefabbricato alle mie spalle ne sono stati aggiunti altri sei ve ne dico un paio gli appartamenti ittici rovinati la torre dell'orologio rovinata i negozi rovinati e via dicendo nuove gallerie sempre per la creativa la galleria pavimento rovinato muro rovinato e galleria bruciata sempre per dare più colore alle vostre creazioni modifiche anche su save the world baccelli di nebbia baccelli come il cantante dice la descrizione no come una schiera di miniboss concentrati sui baccelli di nebbia o finirai travolto dai nemici arriva anche iz preistorica come nuovo eroe di save the world nuova simulazione war games nello stesso gioco quindi sempre in save the world dove bisogna una bisogna fare tipo un plant versus zombie dai una bella pulita a quel giardino e per giardino intendiamo lo scudo anti tempesta per quanto invece riguarda il gioco sempre in save the world un sacco di migliorie per quanto riguarda bug e miglioramenti nel comparto grafico da ragazzi io vi ringrazio ovviamente sapete che se avete visto la mia pagina di instagram c'è anche la nuova ltm di john wick ma quella ve la dico a parte seguite anche la pagina instagram per tutti i leaks in tempo reale vi ringrazio per aver guardato questo video un abbraccio grande iscrivetevi al canale noi ci vediamo in live alle 13 ciao un abbraccio grande iscrivetevi al canale un abbraccio grande iscrivetevi al canale